E benvenuti alla prima puntata del Futuro Adesso, un programma in cui ogni settimana, ogni venerdì alle 21.30, vi faremo attraversare in lungo e largo un tema che ci porrà dei quesiti, ma anche delle speranze verso il nostro domani. Infatti oggi, ad esempio, vogliamo parlare dell'intelligenza artificiale, sì, un tema che ormai è sulla bocca di tutti chi non ha sentito parlare in quest'ultimo periodo di intelligenza artificiale. Dovremmo soprattutto chiederci ma cos'è l'intelligenza artificiale, una vera intelligenza? E allora in realtà si tratta di una branca della scienza informatica che mira la creazione di macchine che imitano l'intelligenza umana e quindi il cervello. In realtà imitano, ovviamente. Ancora ad oggi non c'è quella potenza di calcolo che permette a queste macchine di essere realmente come dei cervelli umani. Eppure la domanda è, potrà accadere in futuro? Cercheremo di sviscerare questo tema insieme a molti esperti, ma prima di andarvi a presentare i nostri primi ospiti, voglio fare un esperimento con voi. Eh sì, ad esempio, se voi non sapete cosa vuol dire qualche parola, cosa fate? Andate oggi su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca e la prima cosa che fate è digitare quello che vorreste conoscere, come in questo caso intelligenza artificiale. Allora vediamo che abbiamo varie proposte, ne andiamo a scegliere una e vediamo il risultato. A volte si tratta di Wikipedia, che ci spiega che cos'è, altre volte un articolo scientifico e così via. In realtà come funzionano le intelligenze artificiali, queste nuove realtà, e quindi ad esempio ChatGPT di cui tanto si parla, funziona in un modo completamente diverso. Eh sì, vediamo, chiediamo all'intelligenza artificiale cos'è l'intelligenza artificiale. In questo caso avremo un risultato diverso. Innanzitutto vediamo che pensa, inizia a pensare, inizia a produrre il risultato. E abbiamo tantissime informazioni che vengono pescate in rete, che fanno parte di quello che è il percorso che questa macchina ha avuto fino a questo momento. E vi dico così perché in realtà tra un mese la risposta potrebbe non essere identica. E allora voglio parlare di questo ovviamente con chi è molto più esperto di me. Vado subito a presentarvi quelli che sono i nostri primi ospiti. Allora do assolutamente il benvenuto a Emilio Billi, responsabile di ricerca e sviluppo di A3Cube. E poi Antonella Rubico, CEO di A3Cube, cofondatori dell'azienda. Allora io vorrei iniziare subito, dottoressa Rubico, a chiederle mi può spiegare un po' cosa fa la vostra azienda e soprattutto insomma voi siete addirittura nella Silicon Valley, avete vinto dei premi prestigiosi. Un'azienda italiana che è un fiore all'occhiello. Ci racconti? Allora fondamentalmente noi ci siamo sempre occupati di quella che è l'accelerazione dell'accesso al dato. Quindi noi abbiamo dal, è dal 96 che noi abbiamo iniziato questo diciamo questa avventura che poi è diventata A3Cube, dove è che il nostro focus era creare dei sistemi veloci per l'accesso al dato. e progettiamo, realizziamo super computer fondamentalmente. Super computer? Super computer. Ok. Sembrano quelle cose fantascientifiche. Sì, che sono delle stanze piene di potenza di calcolo, servono adesso più che mai considerato che per l'intelligenza artificiale serve la potenza di un super computer o di più super computer. Quindi fondamentalmente l'azienda per semplificare progetta le macchine e sistemi che vanno al servizio dell'intelligenza artificiale per fare il training delle reti neurali anche complesse. E come, ottimo, ho capito bene anch'io, e come siete arrivati alla Silicon Valley? Io dico sempre per errore, cioè nel senso che noi realmente volevamo andare in Texas ad Austin perché ai tempi era il 2012, era una zona che non interessava di più, però per vari motivi abbiamo iniziato a fare avanti e indietro con gli Stati Uniti dal 2007 e avevamo tante consulenze richieste soprattutto per l'expertise di Billy in Silicon Valley. Quindi il discorso era stato va bene, già che ci spostiamo andiamo dov'è che abbiamo anche i clienti. Poi oggettivamente l'azienda per esistere e questo qua è un dato di fatto devi essere in Silicon Valley. Se non sei in Silicon Valley non esisti. Però non essendo lì abbiamo comunque una visibilità su tutti gli Stati Uniti. Ok, e non solo perché poi dall'America quello che accade realmente è che la visibilità è un po' in tutto il mondo perché credo la faccia un po' da padrone però me lo racconterete voi. allora dottor Billy lei praticamente ha avuto tantissime esperienze sin dall'inizio ha iniziato a lavorare con i grandi colossi addirittura lavorato per l'acceleratore di Google se non sbaglio Bing e volevo chiederle ma come è iniziata questa passione? Cioè 30 anni fa 25 anni fa ad un certo punto un giorno si è svegliato? È iniziata credo ormai sono 29 quasi 30 anni fa è nata per caso perché io studiavo ingegneria nucleare all'epoca e sentivo i miei colleghi di elettronica che parlavano di reti neurali perché l'intelligenza artificiale nasce negli anni 50 solo che è sempre rimasto dominio accademico allora sentendo parlare di reti neurali ho detto cosa sono sembravano interessanti quindi sono andato a studiarmi cosa fossero queste reti neurali poi in parallelo ho avuto l'opportunità grazie e cosa sono le reti neurali? Le reti neurali sono fondamentalmente quello che è alla base oggi del deep learning ovvero sono delle reti matematiche che imitano si chiamano neurali per questo la struttura del cervello ovvero ci sono tanti nuclei di calcolo tutti uguali perché si presuppone che i nostri neuroni siano una rete di cellule che fanno sempre tutte la stessa operazione collegate in maniera matematica tra di loro che possono apprendere ecco perché viene chiamata rete neurale simile al cervello con caratteristiche simili al cervello ed è una cosa che è nata negli anni 70 quindi mi sono appassionato di questa cosa qua e mi sono subito reso conto di un piccolo particolare queste reti neurali sono veramente come si dice avide di potenza di calcolo perché perché sono migliaia se non addirittura milioni di piccole celle che fanno tantissimi calcoli ognuno in ogni caso e che quindi per poter fare un ragionamento in tempo reale bisogna essere in grado di calcolare questi in tempo reale ma facciamo un paragone così anche a casa capiscono un po' meglio in realtà ad esempio se io devo fare un ragionamento con il mio cervello più o meno quanto quanti byte megabyte vado a consumare dunque noi non ce ne rendiamo conto ma anche per fare le più piccole operazioni noi coinvolgiamo milioni se non miliardi di neuroni e il nostro cervello che è una macchina piccolissima nel senso dimensionale fa 10 alla 18 operazioni al secondo cioè teoricamente è in grado di svolgere 10 alla 18 operazioni al secondo cosa significa 10 alla 18 significa un 10 seguito da 18 zeri e quindi che non sapremmo neanche come leggerlo è un po' difficile effettivamente tra l'altro in una scatola che è un decimetro cubo o poco più e quindi ci permette di fare quello che noi attraverso una macchina è stato impossibile fino a anni fa cioè qualsiasi più elementare ragionamento che appare elementare per noi fino a 10 anni fa era uno scoglio insormontabile per la macchina perché queste potenze di calcolo non c'erano non ci sono si cominciano ad essere adesso ma in realtà non sono commodity 10 anni fa erano fantascienza e invece una macchina per fare appunto lo stesso calcolo quanto consuma? innanzitutto il cervello parliamo di efficienza energetica consuma sui 20-25 watt per fare queste 10 alle 18 operazioni se prendiamo una macchina equivalente costruita con il server quindi detto così non sembra tanto 20-25 watt è una lampadina una lampadina prendiamo un server e dici un server fa un miliardesimo delle operazioni del cervello quindi cominciamo a mettere insieme tanti server per collegare tutti tra di loro allora tra server rete di interconnessione sistemi di raffreddamento eccetera necessario a parte avere la dimensione di una stanza se non addirittura di due o tre stanze per fare lo stesso calcolo? per fare lo stesso tipo di potenza di calcolo attenzione che siamo nel 2023 ed è si stiamo approcciando a 10 alla 18 ok quindi stiamo arrivandoci adesso ok e il consumo è di qualche miliardo di watt se non centinaia di milioni nella migliore delle ipotesi utilizzando tanti acceleratori che consumano meno ma in realtà poi con tutti gli apparati collaterali eccetera arriviamo a qualche probabilmente un gigawatt ok quindi ad esempio 20 watt un gigawatt posso dire che per fare un calcolo complesso a questo punto forse servirebbe uno stadio sì sì assolutamente sì davvero chat GPT comunque è dietro due super computer da 4096 acceleratori l'uno quindi 4096 server l'uno non sono cose banali se anche solo ogni server consuma 100 watt si fa presto a fare il conto in realtà non consuma 100 watt quindi potremmo passeggiare attraverso tutti questi server enormi che sono lì a lavorare e a consumare poi parleremo anche di questo certo ovviamente ok una cosa interessante è anche insomma come queste queste macchine sono diverse l'una dall'altra lo dicevo nell'introduzione per l'appunto in realtà ogni ogni rete neurale è diversa dall'altra quindi io non ho la possibilità di addestrare tra virgolette due reti neurali nello stesso modo non avrò lo stesso risultato beh allora considerando proprio che cos'è una rete neurale il principio che c'è dietro a una rete all'intelligenza artificiale è un cambio di paradigma da quello che noi consideriamo l'approccio uomo macchina cioè la programmazione quando noi programmiamo una macchina noi ci aspettiamo sempre una risposta rigida dalla macchina se succede questo allora fai questo in realtà l'intelligenza artificiale è una serie di diciamo di metodologie per fare in modo che la macchina non venga più programmata ma impari un'abilità una capacità a svolgere un compito attraverso le informazioni che gli vengono fornite cioè come si impara dall'esperienza l'esperienza sono i dati sono le immagini eccetera quindi quando noi pensiamo a una macchina che non è più programmata ma che apprende dall'esperienza e consideriamo una complessità intrinseca nella rete neurale la rete neurale può avere anche 100 miliardi di parametri il chat GPT ha 172 miliardi di parametri è ovvio che non c'è più un'intellegibilità tra l'uomo e la macchina la macchina apprende apprende con dei processi di inizializzazione che sono altrimenti randomici per cui se io prendo due reti neurali identiche sugli stessi dati questi possono costruire dei modelli interni una differente dall'altra quindi riassumendo in parole semplici vuol dire che io posso prendere due reti neurali dare esattamente in passo a loro le stesse informazioni sia da parte di chi le ha programmate sia appunto in rete dopodiché avrò due reti neurali diverse che ragioneranno in maniera differente che ci daranno anche delle risposte differenti questo corretto entrambi è molto interessante dall'altra però direi che è quasi spaventoso perché ci fa pensare Antonella che a questo punto in un prossimo futuro potremmo avere delle macchine davvero che potranno essere come come l'uomo io la cosa che dico sempre è che finché io stacco la spina comando io però ok e se imparassero a tenere la spina attaccata e questo qua infatti è lui dice si fa però se è distribuito e molto dipende da quanto l'uomo è disposto a imparare a non subire la tecnologia secondo me a non subire l'intelligenza artificiale perché più la si capisce più si capisce il beneficio che si può avere dall'intelligenza artificiale più la si domina che deve diventare un tool non deve diventare un sostitutivo e questa cosa qua è davvero secondo me è uno dei key su cui andare davvero a ragionare perché effettivamente il gap tra chi fa chi subisce la tecnologia quindi dice ok uso chat GPT per qualsiasi cosa o chi cerca di capire e usarla quando serve a supporto delle sue capacità a completamento delle capacità o per velocizzare un lavoro che già comunque sa fare lì c'è la differenza quindi spaventare o aver paura sta lì ma infatti una cosa che mi perplime di più appunto anche nell'andare avanti una di quelle preoccupazioni può essere il fatto anche che le persone semplicemente si abituino a non ragionare più potrebbe essere un pericolo allora una cosa è certa questo mio punto di vista tra poco assisteremo a una nuova umanità dove c'è un rapporto differente tra il concetto di macchina e il concetto di uomo perché fino ad oggi noi abbiamo interagito con le macchine come degli oggetti passivi perché ovviamente sono passivi lo sono stato fino adesso anche un motore di ricerca risponde alle mie domande ma non mette nulla di creativo al suo interno poi sono io quindi la macchina è creativa oggi stiamo assistendo a un'evoluzione della macchina verso un livello di capacità di creare contenuti originali la chat GPT è il primo esempio ma si possono creare film immagini completamente generati dall'intelligenza artificiale che non sono più un'animazione di un qualcosa pensato da un creativo umano e poi dato in pasta alla macchina che ne fa il rendering eccetera è un qualcosa che nasce direttamente da una serie di input che possono anche essere solo quattro concetti che vengono interpretati dalla macchina e la macchina tira fuori un suo idea originale che interpreta quei concetti ecco che la macchina non è più un oggetto passivo non è più un esecutore della mia volontà è un collaboratore quindi in qualche modo stiamo dicendo anche che la creatività è una combinazione casuale di elementi no? non è solo beh allora c'è la creatività generica poi c'è la genialità non è che tutti ogni giorno scopriamo qualcosa di rivoluzionario che nessuno ha mai imparato prima visto prima nel 90% dei casi ci limitiamo a mettere in pratica quello che conosciamo cioè anche nel fare un ritratto non è che siamo il ritratto che sconvolge il mondo perché abbiamo inventato una tecnica in quel momento inventiamo una tecnica nuova di fare ritratti usiamo la tecnica che conosciamo ecco su tante cose noi utilizziamo come potrebbe fare una macchina una creatività che in realtà non è nient'altro che un riconoscere ciò che già conosciamo all'interno di un'opera nuova e però allora l'altra domanda è noi in realtà creiamo anche in base a quelli che sono gli elementi esterni quindi in base alle nostre sensazioni ma dico anche in base al tatto il gusto la vista e quindi queste cose almeno ad oggi ancora non le possiede l'intelligenza artificiale sono stimoli quindi sono input oggi all'intelligenza artificiale gli diamo in pasto dei dati che possono anche già essere delle immagini in ogni caso ma nulla vieta che questi input un domani saranno odori se scopriamo il modo di fare nasi elettronici più sofisticati perché con la vista l'abbiamo fatto con certi settori certo il concetto di caldo freddo lo possiamo fare quando ci sono le sonde il tatto si può emulare quindi si tratta soltanto siamo agli albori stiamo iniziando adesso siamo agli albori però una cosa interessante di cui avevamo parlato è il fatto che fino al 2015 per far immagazzinare delle immagini non mi ricordo adesso che numero era di immagini 4 miliardi 4 miliardi di immagini a un'intelligenza artificiale erano necessari 50 giorni circa oggi 5 minuti si cioè è un abisso far riconoscere queste immagini insegnare a comprendere queste immagini nella macchina la macchina impara per confronto quindi faccio vedere questa è un'immagine e spiego cos'è per farlo nel 2015 ovviamente su un'enorme quantità di immagini ci volevano veramente 53 giorni oggi ci vogliono diciamo quel super computer più potente che abbiamo a disposizione circa 5-6 minuti questo è dovuto solo esclusivamente alla potenza tra qualche anno possiamo immaginare che ci vorrà molto molto meno qualche secondo la velocità di apprendimento già oggi su grosse quantità di dati è superiore a quella umana pensiamo alla chat GPT certo chat GPT praticamente risponde a qualsiasi domanda bene o male risponde a qualsiasi domanda una persona che magari ha studiato anche per 40 anni nella sua vita non è in grado di fare la stessa cosa allora facciamo così facciamo un breve riassunto di quella che è l'intelligenza artificiale ma soprattutto di quelle che potrebbero anche essere le sue applicazioni e direi implicazioni andiamo a vedere il servizio l'AI è nella nostra quotidianità con i social network ogni volta che vogliamo acquistare prodotti online attraverso sistemi di ricerca i cosiddetti raccomander system è da tantissimi anni nelle app di traduzione che imparano dai nostri suggerimenti è in ogni motore di ricerca quando facciamo acquisti online e permettiamo di essere studiati attraverso gli algoritmi profilativi come il più sapiente degli analisti ha infiniti ambiti di applicazione dalla sanità al settore militare e aereo spaziale dalla genomica alla farmaceutica fino alla progettazione di edifici ed è molto efficace nell'efficientamento dell'ecosostenibilità energetica ma quindi cos'è l'intelligenza artificiale? è certamente il più grande cambiamento dell'umanità probabilmente più della rivoluzione industriale numeri algoritmi che si combinano tra loro immagazzinando dati e diventando sempre più sapienti e per questo utilizzati a supporto di ogni lavoro che necessiti di mettere a sistema più elementi quindi come sarà il nostro futuro? sarà certamente basato su modelli predittivi che mireranno a evitare l'insorgere di malattie attraverso semplici e periodiche analisi come nel caso dei piloti che sono costantemente sottoposti a stress fisici dovuti alle accelerazioni degli aerei e alla pressione delle altitudini di volo si potrà quindi individuare qual è la soglia oltre la quale non andare calcolando la vita residua di ciascuna persona si potranno prevedere con certezza terremoti e altre catastrofi e attraverso le reti neurali verrà massimizzato il risultato fino al 98% ma gli esperti sono quasi tutti concordi nel dire che sono necessarie regole e che la macchina non può sostituire l'uomo ma deve esserne solo un supporto la macchina non sarà mai perfettibile perché è più simile all'uomo di quanto oggi sia possibile immaginare e quindi fallibile basti pensare al fatto che non esistono reti neurali identiche ma ognuna pur apprendendo le stesse informazioni è diversa l'autoapprendimento si basa anche sul caso solo clonando le reti neurali posso averne due uguali ma chiaramente dal momento della clonazione pur restando simili anche queste due cambieranno cosa succederà quando potremo fare sentire il tatto alla macchina spiegandole le varie reazioni emotive e quando perfezioneremo la vista attraverso sensori sempre più sofisticati cosa accadrà quando si arriverà ad una potenza di calcolo tale da replicare davvero il cervello dell'uomo la macchina imperfetta e ognuna diversa dall'altra sarà davvero come l'uomo molti scienziati dicono di sì e voi cosa ne pensate esattamente voi cosa ne pensate siete tra quelli che hanno paura o tra quelli che non vedono l'ora di avere magari un robot a casa con il quale dialogare perché no essere anche un po' aiutati senza le lamentele che magari può avere una persona che lavora per noi il sogno di magari tante persone poter alleviare il lavoro fisico degli uomini e quindi poterci magari dedicare soltanto a dei lavori più intellettuali ma non so se poi la direzione sarebbe realmente quella allora torniamo a parlarne insieme perché dottor Billi io sono curiosa lei mi ha detto che si è appassionato in realtà all'intelligenza artificiale grazie alla lettura di ciò che aveva scritto un genio che è Alan Turing che poi è il fondatore e il papà dell'intelligenza artificiale e che cosa ha detto di così speciale quest'uomo lui ha detto una cosa che poi si è dimostrata assolutamente vera comunque anche se futuribile perché lui l'ha detto addirittura oltre a quello che siamo arrivati oggi e che è stato il motivo per cui poi nella mia azienda ho sviluppato Supercomputer lui diceva se riuscissimo a mettere insieme la potenza di tutti i computer a disposizione in maniera tale che potessero ragionare tra di loro noi sicuramente riusciremo a replicare l'intelligenza umana allora con l'idea che rete neurale potenza di calcolo potenza di calcolo supercomputer reti di computer collegati tra di loro ecco che Turing oggi ha avuto ragione perché abbiamo più potenza di calcolo abbiamo e più la macchina sembra un uomo però posso dire Turing aveva anche elaborato quello che è il famoso test di Turing che in realtà è superato perché diceva per l'appunto che secondo questo test si poteva verificare se una persona era una persona oppure una macchina in realtà oggi le macchine sono così furbe e così intelligenti che superano il test di Turing in realtà non è che hanno diciamo non è superato il test di Turing siamo noi che siamo riusciti a realizzare delle macchine che sono che sembrano intelligenti quanto gli uomini esatto non è il test di Turing che fallisce ma siamo noi che siamo stati più bravi abbiamo raggiunto quello che sperava che sperava si raggiungesse Turing e in realtà l'abbiamo visto anche tanto ad esempio con i giochi con gli scacchi con tante altre realtà mi diceva l'altra volta del ping pong il primo sono stati gli scacchi gli scacchi sono per la loro natura stessa è un gioco che è replicabile dal computer poi con l'introduzione dell'intelligenza artificiale questa replica del computer è diventata talmente sofisticata che anche un campione nel mondo come Kasparov alla fine si è confrontato con una macchina senza comprendere che dall'altra parte c'era una macchina cioè la macchina ragionava meglio di un uomo anche se poi a volte anche la macchina è stata abbattuta dall'uomo la macchina può sbagliare l'intelligenza artificiale non avendo una risposta rigida ma avendo una risposta dinamica può anche interpretare male il contesto quindi è fallibile esattamente quanto l'uomo assolutamente sì non è infallibile è proprio quello forse la parte più affascinante dell'intelligenza artificiale perché se noi avessimo sviluppato un meccanismo rigido avremmo semplicemente fatto un automa ok in realtà proprio perché il meccanismo non è rigido ma la macchina interpreta gli stimoli nel momento in cui li riceve e fornisce un output che non è più statico ma è dinamico perché per tutta una serie di motivi può ricevere prima un segnale piuttosto che un altro eccetera quindi risponde in maniera differente noi veramente siamo di fronte a un qualcosa che non è più un automa dobbiamo ricordarcene soprattutto nel momento in cui magari ci troviamo a affidare all'intelligenza artificiale questioni riguardanti la sanità riguardanti la guerra riguardanti tutto ciò che ha a che fare con la legge perché poi a quel punto sostituiamo quella anche che è l'etica dell'uomo e di più uomini con quello che dice una macchina che tra l'altro è fallibile ma è anche assertiva certo allora che vuol dire lo vogliamo spiegare l'intelligenza artificiale ha l'intelligenza cioè tutte le reti neurali in sé devono massimizzare lo scopo quindi se io come scopo dimostrare una determinata cosa le reti neurali faranno in modo che trovarmi le tesi diciamo la C.A.G.P.T. per arrivare a validare quella mia tesi quindi mi vuole fare contenta la macchina è uguale fare contenta ma basta fargli una domanda dimostrami che un sistema di equazioni differenziali è più utile nella soluzione del calcolo del cemento armato rispetto agli elementi finiti la macchina mi tirerà fuori tutte le sue belle tesi per cui valida questo arriva un'altra persona che invece ha la tesi opposta e gli chiede dimostrami che la teoria degli elementi finiti è superiore alle equazioni differenziali eccetera e la C.A.G.P.T. scriverà un bellissimo articolo che dimostrerà il contrario questo è molto pericoloso soprattutto se dobbiamo trovare il colpevole di un omicidio o meno comunque ne parliamo tra pochissimo ci fermiamo solo per qualche istante di pubblicità bentornati al futuro adesso stiamo parlando di intelligenza artificiale devo dire che stanno emergendo tantissime informazioni interessanti abbiamo indagato cos'è l'intelligenza artificiale ma soprattutto quali possono essere gli ambiti nella quale può essere applicata praticamente ovunque adesso continuiamo a parlarne insieme ai nostri ospiti ma ma oltre chiaramente a Emilio Billi e Antonella Rubicco cofondatori di Atri Cube abbiamo qui un nuovo ospite che sono molto contenta di accogliere Vincenzo Marzetti per l'appunto founder di Zero in Sharing Knowledge Startup Benefit per divulgazione economica allora Vincenzo io vorrei un po' parlare con te per l'appunto di come oggi stanno cambiando le aziende e di come inventano nuovi modi di fare business e tu hai individuato immediatamente che poteva esserci qualcosa di davvero interessante in questa nuova tecnologia grazie Janet un saluto anche ai telespettatori dunque io sto operando nell'ambito del content marketing quindi creare contenuti multimediali che siano di utilità per gli ascoltatori ma che anche creino interesse verso l'azienda per fare questo utilizziamo la lunga durata perché è un mondo estremamente frenetico estremamente superficiale e per creare dei contenuti approfonditi che siano veramente di utilità utilizziamo il formato audio già stiamo da parecchio tempo utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare i processi produttivi del mondo audio quindi parliamo podcast esattamente abbiamo vari podcast e ci occupiamo di divulgazione economica il filo conduttore di oltre 160 episodi è che la chiave di sviluppo del paese è incrementare il livello culturale della popolazione quindi questa è la nostra goccia nell'oceano per contribuire in questo senso ovviamente l'audio si presta meno a catturare l'attenzione rispetto al mondo video e abbiamo creato dei videotrailer per emergere nel mondo insomma dell'infosfera sommersa da contenuti multimediali abbiamo utilizzato vari applicativi di intelligenza artificiale e la particolarità è l'utilizzo integrato di vari strumenti infatti andiamo strategicamente in giro per il mondo a cercare tutte le novità nel campo audiovisivo per integrarle e tramite un team di specialisti riusciamo a ottenere dei risultati che in qualche modo rendono lo strumento particolare innovativo e distintivo bene allora io direi di andare a vedere uno di questi video proprio per capire meglio subito di che cosa stiamo parlando e allora parliamo del video Zero in Vision guardiamo caro saluto a tutti e ai tuoi ospiti in particolare e a chi vi ascolta mi spiace non essere con voi sono a distanza ma ci tenevo a mandarvi un saluto e qualche riflessione perché stiamo parlando di una trasformazione che avrà impatti enormi sulla vita di tutti sul lavoro su chi possiederà la tecnologia e chi invece sarà un follower perché non la possiederà su chi sarà in grado di fare grandi investimenti e su chi rischia di essere tagliato fuori anche da questa nuova transizione tecnologica e scientifica ogni trasformazione porta con sé benefici nuove opportunità e comporta rischi e impatti negativi useremo meglio grazie all'intelligenza artificiale useremo meglio alcune risorse ambientalmente saremo in grado di usare meglio l'energia e l'acqua per esempio saremo in grado di fare quel famoso passaggio verso la diagnosi anticipata e la medicina personalizzata di cui molto si parla da anni ma su cui ci sono interessanti applicazioni già in uso ci sarà nell'assistenza alle persone e ci sarà nell'assistenza alle persone meno abili più anziane più esposte ai rischi ci sarà nell'istruzione lo sviluppo dell'IA si trascina anche dei rischi il primo dei quali accade sempre e accadrà è il fatto che scompariranno mestieri lavori che possono essere sostituiti dall'intelligenza sintetica dobbiamo trovare delle regole non sarà facile perché saranno regole che dovranno da un lato non fermare lo sviluppo ma dall'altro lato costruire le condizioni perché questo sviluppo sia uno sviluppo che metta la persona al centro garantisca trasparenza alla massa di dati e soprattutto a chi ne è in possesso li dovrà utilizzare in maniera trasparente li dovrà utilizzare in maniera sicura e queste saranno condizioni non negoziabili perché sono condizioni essenziali per lo sviluppo c'è un grande tema che riguarda l'informazione chi possiede i dati è in grado di usarli in molti modi ed è anche in grado di manipolarli costruendo falsa informazione informazione condizionante quindi qui c'è il grande tema del confronto competitivo conflittuale tra i paesi e dell'utilizzo che si fa dell'informazione per esempio a fini politici ed elettorali e ne abbiamo visti degli esemi passati le regole si scrivono bene quando le regole sono regole scritte in modo partecipato e sono scritte bene in modo partecipato se c'è una buona e diffusa consapevolezza di ciò che la tecnologia può fare nel bene quindi creando nuovi servizi nuove opportunità valore aggiunto per la nostra società e nel male perché la tecnologia non è neutra la tecnologia dipende da come si usa che una collettività consapevole partecipa in modo intelligente alla costruzione delle regole una collettività meno informata e poco consapevole colta rischia di subire regole che che non raggiungono l'effetto desiderato che è quello di massimizzare i benefici per l'uomo e di limitare le applicazioni rischiose o negative quindi un caro saluto bene ovviamente non abbiamo visto il video in vision invece abbiamo visto il contributo del presidente Airi per l'appunto Andrea Bairati il quale ci ha posto dei temi molto interessanti soprattutto riguardo a ciò che realmente si potrebbe fare con l'intelligenza artificiale se non ci fosse una cultura diffusa perché ahimè sappiamo che sono poche le persone al mondo che detengono questo potere economico e tecnologico quindi Vincenzo riprendiamo un po' da qui il filo del discorso poi andiamo a vedere i video che voi realizzate in questo caso ci ricolleghiamo a quello che in realtà avevi detto perché parlavi della diffusione di cultura che è necessaria come diceva Bairati assolutamente poi in particolare almeno nel mio settore vedo due rischi percepiti il primo è sulla autenticità delle registrazioni visto che attualmente gli applicativi permettono non solo di alterare la voce o di utilizzare lo stesso tono anche di personalità della storia che noi mettiamo positivamente a frutto ma si presta a degli abusi consigliando poi che gli ultimi sviluppi permettono di mantenere lo stesso tono e la stessa cadenza anche traducendo in lingue diverse e modificando il labiale quindi si credo comunque che la normativa verrà in soccorso di questa tipologia di abusi ma anche la tecnologia per poter riconoscere strumenti artificiali da quelli originali però è un tema piuttosto noto l'altra grande paura riguarda ovviamente i posti di lavoro e quindi è vista come una minaccia per tanti lavoratori magari nel settore audiovisivo che effettivamente hanno meno capacità di lavoro perché gran parte dei lavori che però tengo a dire sono più ripetitivi più noiosi più automatizzabili possono essere gestiti da un'intelligenza artificiale ma visto che probabilmente possiamo considerare questa rivoluzione come la seconda rivoluzione digitale perché fino a oggi probabilmente l'evoluzione di internet vista come cloud computing o come IoT internet of things è stata un'evoluzione questa la possiamo definire effettivamente una seconda rivoluzione industriale ma come internet ha stravolto molti modelli di business per i negozianti per le agenzie di viaggio per le agenzie immobiliari ma non è finito il mondo perché ognuno poi si è ritrovato con nuovi strumenti o ha dovuto cambiare l'importante è sicuramente la mentalità aperta l'informazione la formazione e la cultura quindi credo che sia importante anche sensibilizzare il pubblico di vedere le cose da un punto di vista approfondito e qui torniamo insomma alla capacità di approfondimento per una formazione adeguata oggi tutti cercano di farsi un'idea di un determinato argomento con qualche reel su Instagram e questo secondo me è un grandissimo rischio anche se penso che già la soluzione la stiano adottando le piattaforme che si rendono conto che contenuti leggeri sono poco remunerativi perché già dopo pochi secondi le persone cambiano contenuto però diciamo le piattaforme fanno il loro e quindi vogliono sempre soltanto guadagnare in realtà magari il discorso che facciamo noi da un punto di vista etico almeno non sempre corrisponde a quello che vogliono le aziende perché chiaramente alla fine si potrebbe arrivare ad un punto in cui le persone veramente non ragioneranno più non arriveranno più a comprendere la profondità di certi argomenti assolutamente diciamo che in questo caso la logica del profitto forse uno dei pochi casi potrebbe essere di aiuto perché il motivo per cui probabilmente si darà maggiore attenzione ai contenuti lunga durata è perché c'è un senso di appartenenza di una community e quindi una maggiore apertura a seguire le pubblicità senza cambiare contenuto perché c'è poco interesse questo è un po' il messaggio che volevo darti e che penso che sia un trend in atto attualmente direi che almeno in questo senso possiamo andare in positivo ma in realtà è vero quello che ci dice Vincenzo Marzetti cioè è vero che non verranno sostituiti gli uomini nel senso che troveranno una nuova occupazione oppure in realtà siamo un po' ottimisti in questo allora faccio una premessa una grande premessa una grande premessa che prevedere il futuro si possono dire le cose più assurde nel mondo ne abbiamo degli esempi eclatanti McAfee l'inventore della Ethernet disse che la Ethernet è alla base delle tecnologie Internet nel 95 disse Internet è una cosa destinata a finire in pochi anni ecco ed era uno dei massimi esperti all'epoca ok quindi vorrei evitare di fare una predizione esatto evitiamo allora fino adesso è stato così quando si è passati dalla trazione animale a quella motore sono morte le professioni sono nate altre quando abbiamo trasformato diciamo dal motore a vapore all'industria dell'elettricità delle macchine elettriche sono nate nuove professioni eccetera dovrebbe succedere ripeto dovrebbe succedere anche con intelligenza artificiale quello però sta a noi anche dando i confini diciamo che la mia perplessità è semplicemente una se fino ad oggi tutte le rivoluzioni che ci sono state considerato che poi la rivoluzione del computer è una rivoluzione di Internet è stata una rivoluzione che in realtà ha portato tante persone a non avere più questa capacità di approfondimento e questa è una cosa ormai scontata e c'è anche da dire che se noi riusciamo davvero a togliere tutti quelli che sono i lavori più faticosi agli uomini in realtà tutto il resto dovrebbe essere incentrato su qualcosa che riguarda la cultura delle persone e quindi la capacità gestionale da parte delle persone delle macchine e quindi è tanto studio e tutto ciò risulta un pochino forse difficile rispetto a certi trend invece che ci sono oggi a quell'appropondimento che spesso non avviene giusto? questo è vero questo è assolutamente vero allora facciamo così facciamo un passo indietro andiamo a vedere quel video di InVision per capire qual è questo trend reale per capire realmente come stiamo sostituendo le persone guardiamo buongiorno sono uno degli avatar del team di Zero in Sharing Knowledge la startup benefit creata per la divulgazione economico-finanziaria e la crescita personale come leva di sviluppo del paese ecco adesso continuiamo magari a fare scorrere le immagini abbiamo dato un assaggio di quello che è uno dei video che voi realizzate la ragazza che parlava ovviamente in realtà non esiste è un avatar per l'appunto e tutte le immagini anche quelle sono state create con l'intelligenza le immagini sono di repertorio ma sono state concettualmente suggerite da applicativi come ChatGPT perché per dare una consecuzione uno stile astratto abbiamo comunque bisogno spesso di suggerimenti che ci aiutano in questo lavoro non risolvono ma aiutano quindi non facciamo neanche la fatica di pensare a quale immagine mettere è un aiuto nel senso che ora in questo caso sono immagini decisamente astratte ma se dobbiamo creare dei collegamenti astratti su concetti un po' più complessi è molto utile l'utilizzo della creatività dell'intelligenza artificiale generativa e ritorniamo al fatto che la macchina è creativa in questo caso utilizziamo creativi macchine piuttosto che creativi uomini e anche qui insomma le perplessità sono molte però è così è questa la direzione e allora però Vincenzo è normale che arrivi anche la domanda come mai lo si fa ci sarà un vantaggio economico principalmente è un vantaggio della più grande risorsa di tutti che è il tempo quindi questo ci permette di essere molto più snelli più veloci di utilizzare le professionalità umane per le elaborazioni più complesse e ovviamente permette una sorta di industrializzazione e devo dire vedo solo vantaggi da un approccio di questo tipo facciamo così vediamo anche un altro video molto interessante perché tocca degli aspetti diversi guardiamolo io sono la strategia di me si parla come signore della guerra ma la vera battaglia è contro se stessi ho elaborato 500 anni fa un testo ancora oggi studiato nelle università e nelle accademi militari beh stiamo parlando di un video in cui si fa una come dire un viaggio storico e quindi possiamo andare a realizzare sempre più lavori nei quali magari ricostruiamo dei personaggi del passato magari gli diamo una voce un volto cercando di ricostruire sempre di più i personaggi del passato però qui faccio anche un'altra domanda ma potrebbe essere che in futuro il problema sarà distinguere quello che è la verità dalla finzione come hai già detto ma anche che non riusciremo più a ricordare nella storia cosa è vero e cosa è finto in base a ciò che ci viene propinato poi da chi detiene l'informazione sì allora facciamo un distinguo innanzitutto questa è una demo che abbiamo voluto insomma presentare c'è anche un errore insomma abbastanza evidente che non è 500 anni fa il testo di Sun Tzu ma è 500 anni prima di Cristo quindi è giusto una demo indicativa io credo che per passare far trasmettere un determinato messaggio di utilità pubblica come insomma l'utilità di una strategia sia per le persone che per le aziende è importante la spettacolarizzazione come dicevamo ma anche l'autorevolezza per questo abbiamo la possibilità di far rivivere e parlare personalità della storia che possiamo anche far riflettere nella voce originale nel caso fossero più recenti e ci fossero degli archivi storici per quanto riguarda magari utilizzare messaggi non coerenti questo sta alla serietà della produzione e quindi ovviamente come un professore all'università può dare dei messaggi completamente spalzati su testi di filosofia o di storia o interpretazioni lo stesso vale per prodotti di questo tipo quindi anche qui sarà la reputazione e la credibilità del brand ma credo che abbiamo degli strumenti aggiuntivi per sensibilizzare soprattutto i più giovani a determinate tematiche di utilità per la loro crescita personale che magari non avrebbero mai affrontato su un libro di testo scolastico o universitario in più sono messaggi molto forti a sostegno delle aziende che possono farli propri la strategia ne abbiamo fatto un altro sul purpose sul significato e quindi qualcosa che sta sopra alla classica mission aziendale quindi diciamo che io vedo solo che effetti positivi sul lavoro è vero che magari alcuni processi vengono sostituiti ma è anche vero che queste tecnologie danno la possibilità a start-up di crescere e prosperare come la mia e magari assumere più persone perché si aumenta il bacino di possibilità aumentano le start-up aumenta l'interesse istituzionale verso l'innovazione e verso le nuove imprese e quindi è difficile creare come si può dire delle statistiche che si bruci in opposti di lavoro soprattutto se c'è l'apertura mentale di potersi un po' ricostruire perché comunque sono applicativi molto semplici non necessitano della formazione tipica di percorsi universitari o di corsi di programmazione molto sofisticati sono estremamente accessibili credo che sia anche una mentalità nuova che deve affrontare il mondo del lavoro dove magari il posto fisso viene un po' rimesso in discussione ma crea anche delle opportunità per avere il lavoro dei propri sogni farlo dove preferiscono focalizzare dove c'è più creatività e meno manualità e parti noiose avere maggiore potere contrattuale perché hanno un mercato internazionale però devi cambiare la mentalità per cambiare la mentalità è importante agire sulla formazione e sulla cultura e quindi torniamo sempre questa cosa è molto interessante perché ti dirò che per realizzare questo appuntamento di oggi sull'intelligenza artificiale ad esempio io ho trovato difficoltà nel parlare con donne specializzate sul tema e posso dire che Antonella Rubicco CEO di un'azienda appunto con sede nella Silicon Valley è una delle poche donne di riferimento nell'ambito e quindi a questo punto chiedo Antonella ma davvero è ancora un ambito maschile e allora torno al punto è necessario invece che le donne se vogliono cavalcare il futuro devono assolutamente cercare di come dire diventare esperte in questi settori che saranno quelli che necessariamente ritroveremo in qualsiasi lavoro quello assolutamente sì la cosa fondamentale è studiare diventare esperti maneggiare la materia in maniera da poter dare davvero un contributo creativo e comunque di valore l'altra cosa per le donne io sono in un settore che è strettamente maschile io mi sono trovata da anni in riunioni dove sono l'unica donna e gli altri tutti uomini ma non solo in Italia anche in America e lì ci sono addirittura delle dinamiche ancora differenti da quell'Europa però insomma ci interessava sapere se anche lì la cosa fondamentale che io ho notato e questo appunto lavorando spesso quasi esclusamente con uomini è che le donne la cosa che fanno è mollano senza rendersi conto che oggettivamente la donna una volta che ha una legge molto forte quindi una volta che ha studiato che ha appreso anche una capacità organizzativa e di strutturare il lavoro che ha un valore aggiunto enorme e la tendenza quello visto anche con colleghe donne tendono a fare un passo indietro a non mettersi in gioco a dire ma tanto ambito maschile e quindi invece il knowledge deve essere la conoscenza deve essere assessuata cioè non deve essere maschile o femminile la donna ha una capacità se la deve riconoscere e deve su quello far perlo insieme alla conoscenza per davvero dare un contributo di valore e far diventare più femminile questo settore Emilio Billi noi ora ora torniamo abbiamo parlato di molti aspetti positivi che necessariamente ci sono in questa come in tutte le evoluzioni tecnologiche però insomma il rischio quello di lasciarsi un pochino andare per lasciarsi guidare dalla macchina e quindi apprendere meno c'è? Certo che c'è ma c'è in insito nella natura umana cioè oggi fino a oggi uno studiava perché la conoscenza era necessaria poi per fare un certo tipo di lavoro e quindi sopportava la fatica dello studio per raggiungere i suoi obiettivi oggi siamo in un'epoca un po' particolare perché la cultura anche quella più sofisticata sta diventando da slow food a fast food cioè io oggi posso accedere a una serie di informazioni che una volta richiedevano invece delle conoscenze uno studio essere andati in biblioteca piuttosto di aver fatto ricerche specialistiche con una semplice domanda alla tastiera allora che questo che cosa comporta? Comporta che se io smetto di utilizzare una capacità e questo è umano io la perdo quella capacità quindi se io smetto la capacità di studiare sui libri cercare da solo non con un aiuto di una macchina le correlazioni tra i vari dati eccetera cioè costruirmi un mio modello sapere come fare le ricerche sui dati per distinguere quelli falsi da quelli veri ma mi affido semplicemente a una macchina che fatta una domanda mi dà lei la risposta risposta che però io non so da dove arriva se io mi affido ciecamente a quello e lo continuo a fare proprio per quello che diceva mancanza di tempo perché oggi la nostra società è time consuming quindi non ho più tempo di studiare allora mi affido la macchina e ciò tanto studierò domani magari approfondirò domani magari approfondirò queste capacità andranno perse Vincenzo abbiamo quasi terminato il tempo volevi ribattere sì soltanto sul discorso del femminile effettivamente io distinguerei tra le società che utilizzano come scopo l'intelligenza artificiale rispetto a quelle che lo utilizzano come mezzo probabilmente nel primo caso sono contenuti molto scientifici molto insomma magari poco attraenti per il mondo femminile per la loro scientificità e livello matematico però c'è un mondo estremamente vasto di applicazioni dell'intelligenza artificiale come mezzo che riguarda il mondo del marketing della moda della medicina e insomma tutti gli ambiti dove sicuramente il mondo femminile è più coinvolto e dubito che non stiano utilizzando in maniera massiva sono d'accordo però ahimè devo dire che il futuro sicuramente è di chi dominerà le macchine e non di chi le utilizzerà e quindi in questo senso sento di consigliare a tutte le giovani donne di essere tra quelle che possono dominare la macchina anche perché secondo me c'è anche un discorso che spesso le donne considerato come sono gli input anche questa velocità si scattano da sole non si danno la possibilità a me è capitato che una ragazza è venuta a fare un internship che ha visto una nuova realtà e ha detto caspita io non l'avevo valutata e si è ributtata però tendenzialmente noi purtroppo vi devo interrompere perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione ma l'argomento è veramente interessante spero di riprenderlo anche in un'altra occasione abbiamo nuovi ospiti che ci aspettano tra pochissimo nella seconda parte del programma io ringrazio infinitamente Vincenzo Marzetti Antonella Rubicco Emilio Billi per essere stati con noi e per averci dato veramente tanti spunti interessanti adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità grazie ben tornati a Il Futuro Adesso il programma con il quale oggi stiamo indagando il tema dell'intelligenza artificiale abbiamo tra l'altro parlato di molti settori nei quali possiamo utilizzare al meglio quest'intelligenza artificiale ma anche abbiamo cercato di capire quali possono essere i vantaggi ed effettivamente ne sono emersi moltissimi ma anche quali potrebbero essere i rischi anche perché quello che abbiamo scoperto è che l'intelligenza artificiale in realtà ha una vita propria nel senso che nel momento in cui inizia il suo percorso non sappiamo esattamente cosa sta pensando in quel momento cosa sta calcolando e quello che è oggi non sarà domani quello che risponderà oggi non risponderà domani e allo stesso tempo è assertiva ovvero tende a cercare di dare una risposta che ci faccia in qualche modo contenti quindi ad esempio se vogliamo andare a dimostrare una tesi piuttosto che un'altra cercherà di dare ragione a quello che è il nostro pensiero perciò potrebbe essere preoccupante utilizzarla in alcuni ambiti specifici ma ne andiamo a parlare con i nostri nuovi ospiti e allora voglio presentarvi subito Emiliano Boschetto della fondazione Venture Thinking Innovation Senior Manager e poi ancora il professor Silvano Cacciari PIN Polo Universitario di Prato benvenuti grazie allora io vorrei iniziare parlando di aspetti perché qui andremo a vedere aspetti positivi aspetti negativi di quella appunto che è l'intelligenza artificiale parliamo di quelle che sono le applicazioni che oggi stanno entrando nella nostra quotidianità e di cui ad esempio si occupa lei in questo momento sta lavorando per delle aziende per migliorare gli ecosistemi di lavoro sì esattamente quello che sta accadendo è che diciamo da noi lavoriamo soprattutto sugli spazi di lavoro e da la pandemia ha segnato un confine irreversibile perché prima diciamo lo spazio e la funzione erano legati io dico vado in ufficio e vado a lavoro allo stesso come un sinonimo adesso siamo una condizione unica nella storia di avere le persone libere di scegliere dove lavorare e tanti spazi liberi pensiamo le nostre città le grandi torri che abbiamo costruito il lavoro adesso si stanno svuotando la proposta che facciamo è utilizzare invece di smettere questi spazi provare a utilizzarli per far incontrare le persone cioè mappare lo spazio non solo per le sue caratteristiche fisiche come si è sempre fatto ma usare la tecnologia per andare a mappare quale tipo di conoscenze competenze che possa andare a incontrare quindi una volta andrà a lavorare in ufficio una volta da casa ma ci sono tutta una serie in pratica chi vogliamo andare a incontrare chi vogliamo andare a incontrare cioè siccome nel nostro mondo è diciamo in continua evoluzione è un mondo in cambiamento continuo l'apprendimento permanente è fondamentale io se voglio fare un progetto sulla blockchain per dire i miei colleghi mi dicono che sono esperti ma ne trovo uno potrò andare a utilizzare un'applicazione che mi dice dove posso trovare una community esperta di quel tema e quindi mi orienterò nello spazio per le proprietà relazionali perciò la domanda sempre per poter seguire il filologico ad esempio parliamo di una qualsiasi grande azienda la quale ha tantissimi dipendenti sparsi sul territorio che però di fatto non si incontrano è difficile farli parlare tra di loro e quindi invece di essere l'azienda a fare la proposta di un incontro sono loro che dicono devo lavorare a questo progetto allora cerco tutti quelli che possono in qualche modo essere utili al mio progetto esattamente questo e non solo a interno delle aziende per rompere i silus aziendali perché spesso si lavora per funzioni e la creatività si genera per contaminazione non per divisione ma io potrò utilizzare anche andare a lavorare in spazi condivisi con altre realtà quindi potrò andare a cogliere queste opportunità di relazione di conoscenza in spazi di condivisione che possono essere co-working ma noi stiamo facendo degli esperimenti per esempio uno è l'esperimento dello Smart Alliance si chiama che 30 grandi aziende italiane Eni, Enel, Team condividono alcune delle loro sedi con dipendenti di diverse aziende e quindi le persone vanno a scegliere dove andare a lavorare in base alle persone che potrò incontrare le competenze con cui mi potrò arricchire questo cambia definitivamente il lavoro dello spazio e l'intelligenza artificiale cosa fa mano a mano che inizio a lavorare capisce quali sono i miei interessi e mi consiglia luoghi e incontri da fare in base a quello è il mio profilo le mie competenze e quindi cambia completamente è come un'esperienza di lavoro aumentata lo spazio di lavoro è aumentato non solo appunto se troverò l'aria condizionata le sedie in un modo ma le qualità relazionali dello spazio bene è interessante questa nuova visione probabilmente è un po' estraniante in questo momento ancora non siamo abituati a pensare il lavoro in questo modo ma potrebbe anche perché no essere funzionale in un certo futuro perché effettivamente l'economia che ruota attorno a noi cambia in base anche a quelle che sono le esigenze nella pandemia come dicevamo ci ha cambiato tantissimo anche nella modalità di vita allora vediamo però che cos'altro è successo perché noi vogliamo ascoltare delle pillole Good in Finance Pilz Ben trovati e benvenuti all'appuntamento con le pillole di Good in Finance in questa puntata poseremo lo sguardo su quanto c'è di buono e di cattivo nell'intelligenza artificiale applicata alla finanza e lo faremo prendendo a riferimento un ambito tipico della finanza il mercato del credito e dei finanziamenti che interessa le imprese ovviamente ma anche le famiglie e tutti noi come persone fisiche Banche ed intermediari si stanno chiedendo se l'intelligenza artificiale possa fornire informazioni più esatte sulla capacità di un'impresa di restituire un finanziamento o di un cliente di ripagare le rate di un mutuo uno studio del 2020 stima che l'applicazione di modelli di intelligenza artificiale possa migliorare la capacità di default di un cliente fino a 10 punti percentuali in più rispetto ai modelli tradizionali perché accadrebbe tutto questo perché i modelli di intelligenza artificiale non utilizzano soltanto dati economici quali il reddito ma anche dati sociodemografici o dati provenienti dalla navigazione sui social network d'altro canto l'applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe portare vantaggi anche ai clienti fare riferimento a dati non economici potrebbe consentire un accesso più facile ai finanziamenti per quei soggetti che sono esclusi dal sistema finanziario tradizionale magari perché non hanno garanzie da offrire o perché non si hanno dati disponibili di tipo economico per valutare la loro capacità di ripagare il debito e al tempo stesso la possibilità di basare le valutazioni del merito creditizio anche su dati non economici potrebbe estendere il comparto dei soggetti abilitati a offrire credito con un relativo e conseguente aumento della concorrenza e quindi a tutto beneficio dei clienti e dei consumatori D'altro canto esiste un lato scuro nell'applicazione dell'intelligenza artificiale al mercato del credito e questo lato scuro riguarda principalmente la possibilità che si creino forme discriminatorie nell'offerta del credito queste forme non sono ammesse dagli ordinamenti finanziari dei principali paesi e in particolare di quelli europei e si baserebbero non tanto su valutazioni economiche quanto proprio su quei dati sociodemografici e di profilatura che arrivano dai social network che utilizzano i meccanismi di apprendimento dell'intelligenza artificiale peraltro questo porta anche a una difficoltà nella interpretazione di questi esiti di diniego del credito al cliente mentre è semplice o più semplice con i meccanismi tradizionali spiegare a un cliente che quel credito non gli è concesso perché il suo reddito è basso rispetto all'importo che è richiesto è molto più complesso spiegargli per quale motivo in relazione a dei dati sociodemografici oppure di abitudini di acquisto sui social network piuttosto che di quello che si posta sui social quel credito non viene concesso attenzione quindi a come vi comportate sui social network non è un caso che le autorità monetarie e bancarie si stiano preoccupando di promuovere solo quei modelli di intelligenza artificiale che abbiano i requisiti di interpretabilità e ad esempio l'autorità monetaria di singapore e la banca centrale olandese nel definire i principi di utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale hanno fatto espressamente riferimento ai principi di equità e di etica da un recente studio di Banca d'Italia su 10 intermediari bancari e finanziari che hanno implementato 38 modelli di intelligenza artificiale è presumibile attendersi in un prossimo futuro che questi modelli vengano utilizzati prioritariamente per procedure di credito automatizzato e di piccolo importo e per supportare i modelli tradizionali almeno in questa fase iniziale nell'eterna lotta tra il bene e il male che contraddistingue l'applicazione dell'intelligenza artificiale la finanza dovrà lavorare per restringere il rischio di forme discriminatorie nell'accesso ai servizi finanziari una bella sfida che porta nella direzione di una finanza positiva che non sacrifica l'equità e l'etica sull'altare della sostenibilità economica il professor Latorre ci ha dato veramente un quadro molto ampio su quelle che sono le possibili applicazioni in ambito finanziario e tutto quello che potrebbe cambiare anche nelle valutazioni per avere un accesso al credito e credo che questo sia un altro aspetto da valutare come ci ha detto state attenti a quello che postate su internet perché ad esempio potrebbe essere utilizzato per vedere se potreste essere valutabili come buoni creditori insomma veramente un mondo che cambia tantissimo vero professor Cacciari? Sì considerare un aspetto nel 2012 ormai sono passati 11 anni subito dopo una delle crisi epocali della sterlina un terzo di valore perso in mezza giornata le autorità monetarie inglesi poi c'erano a chiedersi effettivamente cosa stava succedendo nel mondo dell'intelligenza artificiale e ovviamente già all'epoca si parlava di processi di accelerazione delle transazioni finanziarie così pericolosi appunto da provocare la caduta in questo caso della divisa nazionale in mezza giornata ma c'è un aspetto in più che mi interessa sottolineare cioè che già allora si disse che l'intelligenza artificiale era così sviluppata da prendere i posti di comando agli umani e già si era aperta nel mondo finanziario la lotta cito testualmente dal report della Banca d'Inghilterra tra umani e non umani per i posti di comando nei luoghi decisionali che contano sul piano finanziario in che senso non ho capito che vuol dire tra umani e non umani nel senso che i non umani dicevano vogliamo no che già nel 2012 i non umani erano decisivi per le strategie di compravendita ok 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 in questo senso assolutamente sì anche perché come ci diceva prima il dottor Billi certamente noi non abbiamo a questo punto quella potenza di calcolo che sono arrivati ad avere loro però loro non ce l'hanno diciamo in uno spazio così piccolo come il nostro è quello che era undici anni fa è quello era undici anni fa è vero allora tornando al tema però anche anche con un sistema come quello su cui state lavorando voi si pensa di poter andare a implementare l'intelligenza artificiale per creare una migliore economia e quindi alla fine è questo il fine il fine è quello di aumentare la possibilità di scambio di relazioni di conoscenze perché quello che ha messo in discussione la pandemia è uscito pochi giorni fa un report negli Stati Uniti del diciamo come lo chiamano loro il medico generale del Stato in cui dice che la prossima epidemia è quella delle relazioni della solitudine ecco la tecnologia quando ci fu la pandemia noi in pochissimi settimane siamo passati abbiamo trasferito e traslocato tutte le nostre aziende in digitale abbiamo salvato le connessioni funzionali ma abbiamo perso quelli vagonetti weak ties i legami deboli che sono quelli che fanno accadere i legami sociali ecco la nostra sfida è che anche la tecnologia possa adesso aiutare a ritrovare le relazioni in forma nuova perché lo spazio è cambiato perché il tempo è cambiato e sovrapposto in questo mondo nuovo l'intelligenza artificiale ci può orientare ad andare a incontrare e quindi a migliorare la qualità delle relazioni è come se abiteremo degli spazi dei luoghi di lavoro aumentati aumentati appunto dalla possibilità di conoscenza che è l'elemento fondamentale in un mondo in continua transizione come quello attuale mi viene in mente Asimov e tanti suoi racconti però da questo devo dire effettivamente lui aveva già predetto molte di queste cose io direi che è il momento allora di andare ad ascoltare un altro ospite però in questo caso in collegamento l'ingegner Pietro Pacini direttore generale CSI Piemonte perché per l'appunto vorrei capire anche nella pubblica amministrazione come stiamo lavorando con l'intelligenza artificiale per migliorare anche queste relazioni in questo caso la relazione che ha il pubblico con la pubblica amministrazione giusto? Buonasera sì stiamo facendo molte cose con questa nuova tecnologia che possono aiutare ovviamente efficacemente il rapporto con i cittadini ad esempio anche durante la pandemia abbiamo sviluppato una tecnologia che si chiama LOCPA che consente diciamo di dare risposte ai cittadini di come orientarsi sui vari sportelli di servizi virtuali dei comuni questi sono sistemi autoapprendenti che consentono diciamo utilizzando sistemi di machine learning cosiddetto di dare delle risposte interattive ai cittadini questo ad esempio è un primo caso importante che può aiutare diciamo nei servizi ai cittadini soprattutto se si usano servizi da remoto altri esempi sono quelli di utilizzare specificatamente la macchina amministrativa introducendo sistemi per esempio di robotic process automation nei processi quelli ripetitivi che richiedono azioni ripetitive ad esempio smistamento di mail aggregare email o atti amministrativi in secondo logiche definite quindi sono sistemi diciamo intelligenti che consentono di migliorare l'efficienza consideriamo che diciamo oggi vengono fatti circa il 60% dei mestieri che vengono svolti oggi 80 anni fa non esisteva assolutamente tra l'altro in genere se non sbaglio voi volete anche andare verso un'analisi di quello che è il sentimento del pubblico per poter poi rispondere meglio alle esigenze giusto? assolutamente sì e questi sistemi diciamo di intelligenza artificiale consentono anche di capire meglio ad esempio le opinioni dei cittadini sui servizi che vengono dati cosa che stiamo già facendo ad esempio per poter migliorare ulteriormente il tipo di servizio che viene erogato capire meglio dove stanno i problemi e cercare di dare delle risposte più efficaci e più più veloci ai cittadini quindi possono aiutare molto da questo punto di vista ingegnere però mi viene in mente già abbiamo difficoltà relazionali e già molto spesso ci arrabbiamo quando cerchiamo di avere un contatto con la pubblica amministrazione e ci rispondono automaticamente adesso diciamo stiamo demandando in questo caso a una nuova tecnologia che dovrebbe essere più intelligente mettiamola così anche più gentile per avere le risposte e però dall'altra parte non ho comunque l'essere umano e quindi che succederà che poi non avrò veramente più nessun riferimento ma ancora di più le chiedo una riflessione e magari sto appunto sbagliando direzione però magari potrebbe accadere che a lungo andare se la cosa un po' prendesse piede funzionasse che non ci sarebbe più nessuno ad avere una visione nel completo nel complesso perché le faccio un esempio con i medici un po' è avvenuto questo questo meccanismo prima il medico era il medico di base si occupava di noi perché ci conosceva capiva un po' tutti quelli che erano i malanni bastava andare da lui e effettivamente nella maggior parte dei casi riusciva a individuare qual era il problema oggi quelli bravi sono quelli che comunque sono specializzati in qualcosa ma nella maggior parte dei casi se parliamo dei medici di base sono molto spesso ridotti a fare una parte amministrativa e sempre di meno invece si occupano del paziente e comunque non hanno più il contatto e la relazione allora mi chiedo se in una pubblica amministrazione non c'è chi ha una visione nel complesso e non governa il sistema perché è la macchina che ci dice cos'è giusto e ha la relazione col pubblico non si perde un po' di vista l'obiettivo no ma guardi io credo sono appassionato di tecnologia ma non penso ad utilizzi estremi le faccio solo un breve esempio prima di dare la risposta cioè ne pensi alla rivoluzione che c'è stata con l'utilizzo degli smartphone o del web 2.0 quindi con tutti i social network hanno cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci e di interagire con le altre persone poi è chiaro che ci possono essere dei vantaggi e degli svantaggi però certamente il nostro modo di comportarci è estremamente cambiato allora è chiaro che qualcuno che governi la macchina rimarrà rimarrà sempre non possono sostituire le macchine diciamo quello che gli uomini possono fare dal punto di vista diciamo della conduzione strategica di enti di aziende o di sistemi quello che invece possono fare e che stanno facendo è quello di rendere più efficienti i sistemi con cui noi interagiamo e questo è fondamentale tant'è che gli esempi che facevano prima in realtà rendono più efficienti fanno le cose più velocemente riescono ad aggregare informazioni più velocemente degli esseri umani riescono a farlo sempre meglio si riescono ad aggregare immagini cioè con l'introduzione di forme di intelligenza artificiale cosiddette LLM cioè linguaggi generativi si riesce a fare delle cose più aggregare informazioni immagini testi più velocemente questo consente di dare delle risposte efficaci ad esempio ai cittadini in molte situazioni sostituendo in qualche modo l'uomo che in qualche modo però può essere utilizzato per come dire attività di maggiore valore aggiunto quindi lei mi sta dicendo la collaborazione tra macchina e uomo sì ma certamente non puntiamo a diciamo lasciare tutto in mano all'intelligenza artificiale perché altrimenti quello è chiaro a tutti sarebbe un errore è certo però può rendere i servizi molto più efficienti lei pensi alla differenza che c'è tra la necessità di recarsi per forza in un posto per ottenere informazione pagare un ticket fare altri tipi di attività da quello di farlo ne sappiamo qualcosa quindi io credo che questo sia l'obiettivo bene bene allora chiedo anche qui avete visto in quanti modi stanno cercando appunto di implementare la pubblica amministrazione trovo interessante sempre questi questi esperimenti perché credo che siano poi dei pilota che porteranno sicuramente anche altri comuni e altre parti d'Italia a implementare i propri sistemi chiaramente voi come la vedete questa comunione tra macchina e uomo? per quanto riguarda il settore appena toccato quella pubblica amministrazione è il settore essenziale per lo sviluppo del paese quindi noi ne abbiamo bisogno quindi grazie se si parla di comunione è una sinergia assolutamente fondamentale poi conosciamo il nostro paese che è a macchina di lopardo estremamente frammentato è positivo il fatto che nel PNRR comunque oltre il 30% degli interventi devono essere fatti al sud dove c'è una maggiore così un maggiore divide rispetto all'organizzazione comuni del nord il futuro di questo paese passa attraverso lo sviluppo della pubblica amministrazione vale concludere sì io penso che sia una questione di progettazione di design cioè la cosa fondamentale è dare e mettere l'uomo e la macchina al posto giusto e non invertirli nel senso che la macchina accumula analizza smista e trova informazione come diceva l'ingegnere molto più rapidamente tra l'altro l'informazione e comunicarla secondo me l'uomo deve essere diciamo colui che comunica l'informazione e si rende conto nel contesto chi ha di fronte perché chiaramente tra informazione e comunicazione c'è una differenza secondo me l'uomo deve stare quando si comunica l'informazione elaborata con più velocità e efficienza dalla macchina se diamo un ruolo giusto a macchina e l'uomo ancora si possono fare cose ancora migliori grazie mille grazie Emiliano Boschetto per essere stati con noi grazie infinite all'ingegnere Pietro Facini per questi bellissimi esempi di sviluppo io invito Cacciari a restare con noi ci vediamo tra pochissimo pubblicità buonasera grazie ben tornati a Il Futuro Adesso stiamo parlando di intelligenza artificiale e soprattutto siamo arrivati a definire quella che è la collaborazione tra macchina e uomo che forse ecco se si riuscisse ad arrivare ad un vero e proprio equilibrio sarebbe insomma la svolta epocale che da sempre auspichiamo per un mondo migliore anzi dobbiamo dire che soprattutto grazie all'intelligenza artificiale stiamo riuscendo a controllare meglio quelli che sono i dispendi energetici tra l'altro Emilio Billi che è stato qui nella prima parte della trasmissione mi ha parlato tantissimo di quella che è anche la creatività in ambito architettonico che permette di andare a costruire dei luoghi incredibili utilizzando tutti quelli che sono dei materiali che effettivamente aiutano a un minor dispendio energetico insomma sono davvero tantissimi gli ambiti in cui possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale sta di fatto che dobbiamo stare anche attenti a come lo facciamo in questa parte ultima parte della trasmissione vogliamo andare ad indagare l'applicazione dell'AI a quello che è l'ambito che riguarda la guerra la parte militare e anche la questione legislativa lo facciamo con i nostri nuovi ospiti che sono ovviamente il professor Silvano Cacciari pinpo all'Universitario di Prato che è rimasto con noi e Paolo Galdieri avvocato penalista docente di diritto penale dell'informatica benvenuto allora io inizierei subito con te Paolo direi che la questione importante di questo momento è soprattutto definire a livello legislativo i vari ambiti uno è sicuramente quello della creatività di cui si è parlato tantissimo negli ultimi tempi con The Guild in America tanti scioperi da parte ad esempio degli sceneggiatori che volevano stabilire che effettivamente se si utilizza ad esempio una chat GPT come adesso si può fare per andare a strutturare una sceneggiatura certamente poi il diritto d'autore resta a meno non è che perché utilizzo un mezzo e poi c'è chi ha costruito la macchina che diventa autore lui è detentore dei diritti d'autore dall'altra parte però ci sono temi più specifici che riguardano la questione ad esempio penale cioè se utilizzo questi mezzi ad esempio per affidargli il compito di decidere chi è colpevole o no può diventare grave la premessa è che la tecnologia è sempre più veloce della legge quindi la legge arriva sempre in ritardo ma per un motivo semplice perché tu devi conoscere un contesto per poi in qualche modo normarlo e ogni volta che c'è stata una tecnologia c'è stata una paura la paura del treno la paura della macchina la paura della televisione c'è sempre stato qualcuno che non voleva questo e anche da un punto di vista normativo l'intelligenza artificiale adesso all'improvviso diciamo va molto velocemente quindi il legislatore arranca però a livello europeo noi siamo quasi messi meglio degli Stati Uniti dove l'intelligenza artificiale già da tempo viene utilizzata c'è stato l'E-Act da poco tempo sì ma in Europa c'è capito innanzitutto che ci vuole un regolamento cioè quindi qualcosa che sia immediatamente applicativo per tutti e si è parlato di questa approvazione però è un'approvazione della proposta di regolamento quindi sembra che nel 2024 più o meno dovrebbe arrivare questa cosa in breve che cosa dice questo regolamento e quali sono le cose fondamentali che non fai fermare l'intelligenza artificiale ma lo devi fare in sicurezza ci vuole una trasparenza e la chiamiamo intelligenza ma fondamentalmente non è intelligente cioè ha una capacità elaborativa molto forte e quindi c'è un problema di come vengono trattati questi dati e poi c'è la paura che possa sostituire l'uomo da qui per esempio il tema che tu non essendo intelligente sì poi c'è l'umanoide quindi l'autoapprendimento quindi la possibilità di andare al di là delle istruzioni di chi ha programmato la macchina quindi questi sono tutti problemi molto grandi al momento problemi sono diritto d'autore come non puoi dare il diritto d'autore alla macchina lo devi dare alla persona speriamo di no però è fondamentale che la persona comunque produca qualcosa anche l'input che io do a chat gbt se io voglio scrivere una sceneggiatura dico io scrivo una sceneggiatura mentre sto accusando di bua quindi intanto l'idea è la mia poi magari chiederò a chat gbt di descrivermi questo studio quindi diciamo di fare un lavoro da ostiliario a quella che è la mia attività e questo è un primo tema poi c'è il tema dei dati e quindi per esempio noi sappiamo che il garante aveva interrotto l'utilizzo di chat gbt e l'ha resa famosa in qualche modo perché tanti l'hanno conosciuta a mio avviso non doveva neanche bloccarlo perché se ne andiamo a vedere anche altri servizi non tutelano e non è che adesso siamo più tutelati da quel punto di vista però il problema del trattamento del dato è un problema importante poi c'è tutto un problema penale ma immagino che magari passi la parola non so all'altra persona se vuoi sì sì assolutamente poi andremo a indagare più il settore bellico diciamo con il professor Cacciari io farei così mi fermerei un attimo per guardare un servizio nel quale cerchiamo di riassumere un po' tutti quelli che sono gli ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale e anche perché no qualche perplessità e domanda lecita vediamolo i software gestiti da algoritmi sono progettati per analizzare grandi quantità di dati parlando di intelligenza artificiale dobbiamo distinguere tra AI debole e programmata per operare all'interno di una serie di funzioni predefinite da mente umane attraverso la programmazione e AI forte la cosiddetta intelligenza artificiale generativa che avrà una mente propria in grado di svolgere qualsiasi tipo di compito che la sua mente potrà immaginare il matematico Alan Turing che contribuì alla sconfitta di Hitler e che è considerato uno dei padri dell'informatica e dell'intelligenza artificiale elaborò il famoso test di Turing per determinare se una macchina fosse in grado di esibire un comportamento intelligente ormai le moderne reti neurali sono in grado di superare facilmente il test l'AI impara dai propri errori e continua 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 e noi non sappiamo in un dato momento cosa sta elaborando inoltre l'intelligenza artificiale è assetiva e se le forniscono abbastanza informazioni in una direzione mi darà ragione quindi potrò farla sbagliare ciò porta delle riflessioni partendo dal presupposto che la macchina anche se intelligente non ha etica se non quella legata ai limiti che le vengono imposti da chi progetta la stessa macchina in molti sono spaventati dal famoso paperclip maximizer cioè quando la macchina cerca di raggiungere l'obiettivo ad ogni costo immaginiamo di fondare un'azienda di padelle e assumiamo uno sviluppatore per realizzare un'intelligenza artificiale il cui obiettivo è quello di far produrre quante più padelle possibile l'AI avendo questo unico obiettivo utilizzerà tutte le risorse della terra e dell'universo per produrre miliardi e miliardi di padelle anche arrivando ad eliminare tutti gli esseri umani un po' come in Matrix in cui tutti gli uomini sono intubati e vivono in un mondo fantastico inventato al fine di preservare l'umanità e farla durare il più a lungo possibile questo accade perché noi esseri umani siamo in grado di capire il contesto anche se nessuno ci dice di farlo ora questo non è lo scenario di oggi l'AI non ha abbastanza potenza di calcolo per distruggere nessuno ma si va velocemente verso grandi traguardi basti pensare che nel 2015 per l'addestramento di una rete neurale su 4 milioni di immagini erano necessari 53 giorni mentre oggi bastano 5 minuti inoltre non stiamo tenendo conto del fatto che il progresso tecnologico attuale è insostenibile inutile parlare di ESG per una semplice operazione il nostro cervello consuma 25 watt 10 alla 18 mentre per la stessa operazione un computer consuma qualche miliardo di watt ciò comporta un dispendio enorme di energia che deve essere prodotta e che ovviamente inquina basti pensare agli enormi investimenti per creare automobili senza guidatore premesso che l'AI come abbiamo visto può sbagliare che senso ha sostituire l'uomo anche in questo soprattutto visti i costi e il fatto che oltre all'errore della macchina ci sono pericoli che riguardano anche la semplice manomissione ad esempio di un sensore i problemi che abbiamo oggi si ripeterebbero sotto altre forme detto ciò l'AI ha infiniti vantaggi se usata in un sistema collaborativo e non sostitutivo dell'uomo pensiamo alla medicina predittiva ciascun essere umano attraverso semplici controlli potrà sapere con anni di anticipo quale malattia sta per insorgere le compatibilità per le donazioni non sarebbero più un problema e si potrebbero liberare gli uomini gli stessi medici da tutte quelle incombenze amministrative che li portano lontano dal proprio lavoro per non parlare dei vantaggi che già oggi stiamo ottenendo nell'efficientamento energetico e nella progettazione di strutture a basso consumo il vero problema è che tutta questa tecnologia è in mano a poche aziende e ad un pugno di uomini da Elon Musk a Bill Gates da Zuckerberg e Sam Heltman e pochi altri nessuno di loro opera più in open source e tutti fanno grandi investimenti in linguaggi di programmazioni diversi tra loro sì perché ogni azienda ha un diverso linguaggio di riferimento dunque l'AI è e deve restare un ottimo strumento che massimizza lo score ma dobbiamo sapere che ciò che dice non è verità assoluta nella giustizia nell'informazione facilmente manipolabile in ambito militare e in tutti i campi che toccano l'etica l'AI potrà essere un sistema per analizzare una base di dati ma non per prendere decisioni definitive ogni altro utilizzo per ottimizzare i risultati e rendere l'uomo libero da lavori logoranti probabilmente può essere visto solo come un vantaggio per riposizionare l'umanità il futuro adesso ebbene proprio qui adesso in questo momento quando stiamo parlando di intelligenza artificiale credo che in questo video abbiamo riassunto davvero tantissime cose professor Cacciari allora io con lei volevo trattare uno di quegli ambiti che dicevamo per l'appunto non possono essere sostituiti dalla macchina come ad esempio l'ambito militare perché altrimenti insomma potrebbero essere davvero tragiche le conseguenze ad esempio proprio di questa mattina è una bella copertina che copertina è? la vogliamo vedere tra l'altro? per l'Economist eh sì e nell'Economist si fa evidente questa preoccupazione sulla guerra perché? perché addirittura abbiamo the future of war sì io sono sospesso da un aspetto cioè questa copertina avvia 30 anni di ritardo il futuro della guerra comincia a definirsi nel nostro mondo a partire dalla prima guerra del golfo perché? perché ovviamente si redefinisce il campo di battaglia attraverso un uso massiccio di tecnologia e di informatica e ovviamente siamo probabilmente alla terza quarta generazione di redefinizione del campo del campo di battaglia cosa di cui parla in termini specifici l'Economist altro problema a mio avviso di grande interesse in questo genere di temi con il quale dobbiamo oggettivamente convivere è che già nel momento in cui si parla di innovazione e di spinta innovativa in campo civile dobbiamo abituarci a convivere con una situazione di caos sociale economico figuriamoci quando questa spinta innovativa è in ambito bellico la realtà che il nuovo campo di battaglia definito da almeno 3-4-9 generazioni di tecnologia è un nuovo campo di caos che sfugge agli stessi creatori io volevo vedere anche la copertina del suo libro prossimo libro che è in uscita per l'appunto perché insomma io ho voluto lei in studio perché è proprio il come dire il suo obiettivo andare ad indagare questo universo l'universo che lega per l'appunto l'intelligenza artificiale con l'ambito appunto bellico e allora le chiedo ma quali sono le applicazioni che oggi ci sono in quest'ambito quelle che veramente ci sono quelle che possiamo conoscere o se c'è qualcosa che veramente non sappiamo ed è pericoloso allora prima di tutto grazie per la citazione del libro in uscita l'8 settembre allora l'intelligenza artificiale in ambito bellico ha a meno quattro tipologie di applicazioni un'applicazione logistica che per vincere una guerra la logistica è fondamentale certo lo sapevano i grandi condottieri lo sapeva anche Napoleone da questo punto di vista in ambito difensivo in ambito d'attacco dove probabilmente negli ultimi anni le modalità di attacco ibridato con l'intelligenza artificiale hanno veramente cambiato il modo di fare la guerra e poi in ambito previsionale perché l'ambito previsionale è comunque decisivo per l'applicazione e l'implementazione di ogni strategia e di ogni tattica stiamo quindi parlando di un'intelligenza artificiale che ha completamente rivoluzionato i quattro assi del fare guerra ho capito ma se facciamo fare le previsioni dell'intelligenza artificiale che è fallibile che è assertiva magari potrebbe essere vericoloso è molto vericoloso è pericoloso e dico un'altra cosa ogni terreno di guerra serve per l'applicazione dell'intelligenza artificiale ma anche per la sperimentazione per la guerra successiva quella che stiamo oggi vedendo in Ucraina è una guerra che è frutto delle sperimentazioni precedenti in Iraq questo significa che ci sono un sacco di situazioni caotiche imprevedibili sperimentali che si danno ad ogni conflitto con effetti che purtroppo possono essere anche devastanti beh direi che è molto preoccupante quest'ambito ora ritorniamo a quello che riguarda l'ambito legislativo e penale ma non prima di alleggerirci un po' perché noi abbiamo delle pillole particolari in questo caso che sono realizzate da un grande artista Marco Passiglia il quale ci porta in questo momento Zenith andiamo a vedere qualche tempo fa mia mamma mi ha raccontato che quando era piccola ha creduto che nella radio ci fosse uno dentro che cantava beh era così alta la radio e ci poteva stare quindi in 70 anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e più lungo era il passo più piccola diventava la tecnologia così siamo passati da un computer che riempiva da una stanza intera al Commodore 64 simbolo della nostra generazione che per la prima volta vedeva un computer utile come i bong in chiesa ma chi ce l'aveva era già un nerd asintomatico poi arrivarono i floppy disk e chi li produceva avrà pensato e vai mi sono sistemato almeno per tre generazioni posso star tranquillo e invece in pochissimi anni è diventato il simboletto del salvataggio dati perché nel frattempo arrivarono i CD-ROM che essendo ROM hanno rubato il posto ai floppy e in macchina siamo passati dalle cassette al Compat Disc il CD-C che è stata l'invenzione più rivoluzionaria della storia intanto perché ci potevi combattere autovelox o piccioni a seconda di dove erano posizionati e poi perché potevi sbrinarci il parabrezza della macchina in quelle mattine d'inverno quando si formava il ghiaccetto sembra una stupidaggine ma in macchina c'erano CD che servivano solo a quello fino a che è arrivata la chiavetta e con la chiavetta è partita la gara a chi ci aveva i giga più grosso o io ce l'ho da 8 giga o sai che io invece ce l'ho da 16 e io ho conosciuto uno invece che ce l'ha da 32 sì e chi è Rocco? un mare infinito di roba in uno spazio invisibile tra le dita di una mano ma non ci bastava e allora abbiamo creato il cloud e adesso questo mare infinito di roba in uno spazio invisibile non si sa neanche più indostà perché è una nuvoletta tra miliardi di nuvolette in un cielo di intelligenza artificiale onnipresente onnipotente e onnisciente perché in fondo attraverso la tecnologia l'essere umano insegue la sua più grande ambizione essere Dio Marco ci ricorda per l'appunto che forse è vero la più grande ambizione dell'uomo è quella un po' di giocare ad essere Dio e a poter fare tutto quello che riesce ad immaginare in tante cose siamo riusciti veramente a creare dal nulla e il problema però è quando poi subentrano delle tematiche etiche allora torniamo a quella che è la giustizia allora chiedo ad esempio l'intelligenza artificiale in futuro potrà essere utilizzata per sostituire le giurie? l'intelligenza artificiale in ambito soprattutto penale è già studiata ci sono state una serie di risoluzioni proprio a livello europeo da un lato c'è il problema dei reati l'intelligenza artificiale può facilitare la commissione di determinati reati che visto per esempio nel bagarinaggio online che è la possibilità di acquistare in tempo reale attraverso dei bot tantissimi buglietti e rivenderli allo stesso tempo così come c'è quindi favorisce favorisce un certo tipo di criminalità quindi lo agevola e poi c'è tutto il problema per quanto riguarda sempre i reati della robotica cioè il robottino che viene utilizzato in camera operatoria se fa dei danni chi è responsabile allora potrebbe essere responsabile chi l'ha programmato o l'utilizzatore problema diverso addirittura un penalista israeliano teorizza che possa andare proprio il robot in carcere secondo lui perché perché ci sono quelli i robot che attraverso l'autoapprendimento vanno contro anche possono andare contro la volontà di chi l'ha programmato da noi sarebbe impossibile anche ipotizzare una cosa del genere invece diciamo ci sono anche queste teorie per quanto riguarda ma staccare la spina no? li dobbiamo mettere in galera? no perché mi sembra un po' eccettivo si smonta il congiuto e finisce là tutt'altiù ci potrebbe essere una responsabilità civile in Italia per quanto riguarda colui che l'ha programmato e non ha previsto le conseguenze estreme dove poteva arrivare e quanto riguarda la giustizia io ho iniziato a raccomparmi di questi temi nel 1990 si parlava già del giudice sputa sentenze e già all'epoca si accantonò adesso si dice attenzione lo dice anche l'Unione Europea attenzione a prevedere gli accadimenti perché sono fallace e non puoi affidare alla macchina per esempio per dare la sospensione condizionale della pena piuttosto per immaginare la capacità delinquere delinquere di un soggetto così come si sta bloccando anche un utilizzo che in alcune parti del mondo c'era della cosiddetta polizia predittiva cioè quella che prevedeva che in determinati luoghi che ne so il quartiere qua vicino possano essere commessi più reati e di conseguenza mandiamo più fattuglie perché questo porterebbe a una discriminazione e non ci dimentichiamo che la macchina si è efficiente ma sulla base di quello che io gli dico quindi se io gli dico che in una borgata di Roma ci stanno che ne so i Rom io già sto facendo una discriminazione che la macchina poi seguirà ma perché glielo ho data io quindi anche quello è un problema in ultimo c'è il problema di utilizzare per esempio per i pattugliamenti per sminare le bombe e diciamo dei robot anche questo porta dei problemi nel momento in cui utilizzano oggetti atti ad offendere chi è responsabile qualora quindi diciamo soprattutto il regolamento europeo dice nel penale attenzione quindi ma anche nella sanità facciamo l'esempio ad esempio in America dove una giuria deve decidere di medici chiaramente deve decidere a chi dare un determinato organo e questa valutazione viene fatta sotto vari aspetti non soltanto quelli sanitari ma anche psicologici eccetera dare a fidare una prima scrematura la puoi fare una prima scrematura la può fare la macchina considera che tanti anni fa lo fecero per l'adozione dei bambini in Italia al tribunale di Lecce iniziarono a sperimentare perché che ne so il pregiudicato non poteva avere l'adozione quindi quelli li scartava subito ok dopodiché il giudice interveniva su quelli che erano diciamo i vincitori tra virgolette su quelli che erano rimasti poi sceglieva lui però non c'è dubbio che l'Unione Europea dice deve subentrare sempre dopo diciamo che il tema etico è importante dobbiamo sempre prenderlo in considerazione io avrei ancora tantissime domande purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione quindi io davvero voglio ringraziare tantissimo l'avvocato Paolo Galdieri il professor Silvano Cacciari tutti voi che ci avete seguito e soprattutto portarvi a delle riflessioni importanti perché chiaramente quello che è emerso in questa trasmissione è che l'intelligenza artificiale può essere sicuramente uno strumento utile per il nostro futuro se utilizzata bene ma soprattutto se c'è una collaborazione tra quella che è la macchina e l'uomo dove però governare deve restare assolutamente l'uomo l'ambito decisionale deve essere quello dell'individuo umano per l'appunto la macchina può essere molto utile ma vediamo bene dove andiamo ad applicarla e non facciamo la fine di quel mondo di quell'universo raccontato da Asimov in cui le macchine governavano e dicevano agli uomini cosa fare come in sette volte nove per citare per l'appunto sempre discorsi fatti con Emilio Billi e quindi io vorrei davvero che tutti fossero in grado di avere una cultura che gli permetta di utilizzare questi strumenti che inevitabilmente saranno il nostro futuro quindi non fermiamo la tecnologia ma cerchiamo di farlo con consapevolezza un uso consapevole grazie mille per averci seguito io vi do appuntamento alla prossima settimana sempre di venerdì alle 21 e 30 con il futuro adesso venerdì prossimo parleremo di quello che è il mondo della natalità di quelli che sono bambini che nascono e che non nascono molto spesso qui in Italia e quindi cercare di capire chi saranno gli abitanti della terra del futuro vi aspetto al futuro e adesso arrivederci ciao